Sì, vabbè, questo qua è Gesù Cristo, ya! Ho 20 di vita e la cosa non è... Vai, chi? Oddio, cosa sto facendo? No, ma vabbè, non sono fatto. C'è la pietza dove ci avevamo sentito in foto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh my God, oh my God Oh no, what's messed up? Oh my God, oh my God Oh my God, oh my God Oh my God Oh my God Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione!